Ma cosa stai facendo? Sto giocando! Facciamo un puzzle? No! Macchinine? No! Tombola! No! Videogame? No! No no papà ti spiego io un gioco! Ti spiego un gioco papà! Di Manuel Benny Pernice, editrice LDC Un libro inventato dai bambini per i propri genitori Scopo del gioco? Divertirsi! Strumenti? Tanta fantasia! Scopri anche tu più di 60 giochi destinati ad ogni tipo di occasione per i tuoi bambini Allora, abbiamo due persone e tre oggetti Allora, questo gioco si può fare in casa e a casa